Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Sono in compagnia di Gaetano Sea dell'Agenzia Gestur, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Mete ambite, mete sognate, quelle alla fine realizzate, quali sono le mete dei baresi? Ma io devo dire che ognuno ha una sua propria meta. Non esistono delle mete più ambite oppure dei desideri che vengono perseguiti più o meno secondo l'anno di riferimento. E' vero che l'altra volta mi sono incontrato con un caro amico, un giornalista, un tuo collega, che mi diceva che i baresi sono un po' come dei caproni. Diceva che i baresi seguono dove vanno gli altri baresi e poi quando li incontrano in vacanza non li vogliono neanche salutare. E' vero? E' vero, è verissimo. Mi è capitato anche a me personalmente di incontrare delle persone che magari nella nostra città piacevolmente qualche sera incontriamo che poi all'estero fanno finta di non conoscerti. Quindi un po' la mentalità del nostro viaggiatore baresa è quella. Vuole stare un po' nei posti più frequentati però con la speranza di non essere visto. Mentre qualcuno invece tenta di andare nei posti più frequentati con la speranza di essere visto. Quindi non siamo tutti uguali. Estate, mare, sole, spiagge, ma non solo. C'è chi preferisce la metropoli, la montagna o la campagna pro e contro di queste destinazioni? E' vero, ce n'è per tutti i gusti. Specialmente in un anno come questo che è un anno particolare, un anno di crisi sia finanziaria, quindi ci sono pochi soldini da spendere, c'è la paura di spenderli soprattutto che è ancora peggio. C'è il tempo che non ci accompagna perché siamo adesso alla fine del mese di giugno, stiamo avendo ancora delle giornate incerte, il mese di luglio si dice che sarà un po' su questa falsariga. Quindi la scelta da questo punto di vista si amplia, ovvero non c'è più solo mare da dover fare, ma c'è la possibilità di scegliere anche la montagna verde, è una vacanza molto bella, molto salutare. Ci sono le capitali europee e i capitali mondiali che sono sempre molto ambite. Giusto pensare che l'America, per esempio gli Stati Uniti, sono la destinazione più scelta nell'estate. Nonostante il caldo. Assolutamente, qua si va a controtendenza, anche se l'America è un continente molto ampio, quindi si può andare dalla costa est, quella di New York, di Boston, che è un po' più calda, alla costa ovest, quella di San Francisco o Los Angeles, che è più ventilata, quindi più fattibile. Ma ci sono anche i Grand Canyon, i deserti, le Monument Valley dell'inverno che sono molto molto calde, il deserto dell'Arizona, basta pensare a Las Vegas dove si arrivano a 51 gradi anche in estate, quindi è molto vario, però ci sono delle destinazioni nuove quest'anno che un po' hanno seguito alcuni eventi particolari. Ecco, c'è un grande richiamo all'Africa, c'è stato il Mondiale di Calcio, nostro sventurato, ma l'Africa ha avuto un grande richiamo per questo, quindi l'emisfero sud, con il Sudafrica, il Mozambico, la Namibia, il Madagascar, il Kenya, la Tanzania, sono state mete molto 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 desiderate, proprio perché il Mondiale ha trainato un po' questo desiderio. Per chi invece volesse viaggiare da solo? Quali i consigli? Grande questa domanda, grazie, perché i viaggi per single sono croce e delizia di noi organizzatori. Sono la croce perché da tanti anni si tenta di fare viaggi in abbinamento, c'è la possibilità di combinare anche nelle camere gente che viaggia da solo, così per poter creare una compagnia. Ed è una delizia per il fatto che quando vengono organizzate anche le famose crociere per single, ci sono delle crociere, delle partenze fatte appunto per far incontrare la gente, per far conoscere, diventano una situazione veramente veramente interessante, quasi un centro sociale in una vacanza. Quindi una vacanza fatta per incontri che non devono essere solamente a sfondo ludico, ma anche a livello culturale. Vengono fatte delle vacanze culturali per single, che sono fatte anche all'insegna della lettura di libri, delle mostre di concerti, di cinema. Quindi sono delle vacanze molto interessanti. Ci sono alcuni tour operator specializzati in viaggi per single. Quindi io invito, per chi si trova a dover partire da solo, di richiedere alla propria agenzia di viaggi quali sono i viaggi dell'anno fatti per i single. Gaetano, il viaggio più economico è quello più lussuoso? Ah, il viaggio più economico? Il viaggio più economico è starsene a casa, sicuramente. Viaggia con la mente. No, ci sono sicuramente, per quanto ci concerne, quindi per noi che viviamo in Puglia, la possibilità anche di trovare in questa meravigliosa regione il proprio angolo di paradiso. Noi viviamo in una zona d'Italia, ma anche di Mediterraneo, perché noi siamo al centro del Mediterraneo, dove il mare sicuramente non ci manca, dove le proprietà come questa, dove siamo oggi, fantastica, come tante proprietà di livello altissimo, anche agrituristico, ma soprattutto masserie d'epoca, bed and breakfast, all'interno della nostra regione, offrono un'ampissima scelta a prezzi non troppo elevati. Non è sicuramente una regione super economica la Puglia, ma non è una regione con costi improponibili. Quindi io consiglio, per chi non si vuole muovere tanto e vuole spendere un po' meno, considerate la Puglia, è meravigliosa, scopritela soprattutto. Per quanto riguarda invece viaggi tanto costosi, ce n'è uno per eccellenza che ormai da tanti anni porta avanti un po' il trend del viaggio super lussuoso. Dubai? No, 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 assolutamente. È la Polinesia francese. Polinesia francese che spesso metta di viaggi nozze, come fine del viaggio spesso, oppure anche come viaggio tutto organizzato all'interno delle varie isole dei vari atolli della Polinesia e quindi Bora Bora, Murea, Taa, Papete stessa. Un viaggio chiaramente molto lungo, basti pensare che solo per arrivarci vogliono circa 23 ore di aereo, 12 fuso orari in meno, quindi sicuramente un viaggio interessante dal punto di vista della qualità della vacanza, ma anche faticoso. Quindi quando si affronta un viaggio non bisogna solo pensare alla meta finale, a dove andrò e come starò, ma soprattutto quando tornerò? Devo lavorare il giorno dopo? Facciamo un gioco. Io ti propongo una meta e tu mi dirai il periodo giusto per viaggiare. Assolutamente. Tokyo. Tokyo. Tokyo sempre. L'inverno è molto freddo. Nessuno pensa all'inverno giapponese così freddo, ma ci sono dei periodi in Giappone, soprattutto a gennaio e febbraio, dove le temperature vanno molto al di sotto dello zero. Quindi una destinazione bellissima, molto interessante, cara, non è sicuramente un prodotto economico, molto diverso, quindi per chi ama l'esotico, la diversità dal cibo alla cultura, alla religione, alle architetture, il Giappone è veramente una destinazione stupenda. New York. New York. Tutto l'anno, evitare febbraio e marzo, anche se sono i mesi più economici dell'anno, anche qui inverno molto rigido, da dicembre in poi si abbassano notevolmente le temperature, però è anche vero che Dubrovnik, New York, in inverno, specialmente nel periodo di Natale, è una chicca, è il posto forse del mondo dove il Natale si sente di più. Rabat. Marocco. Marocco è una perla. Io non direi solamente Rabat, ma direi tutto il Marocco, quindi anche Casablanca, Agadir, le città imperiali, è un prodotto da scoprire, ancora poco pubblicizzato. Da andarci quando? Da andarci sempre, tutto l'anno e soprattutto in Marocco va bene anche il fai da te. Si può andare addirittura in macchina, imbarcandosi della Spagna, facendo un giro con le jeep, è una vacanza, specialmente gruppi di amici, ricordate il film Marrakesh Express, anzi rivedetelo perché è meraviglioso. Londra. Londra sempre, sempre, in tutte le salse, tutto l'anno. Damasco. Damasco, nuova destinazione la Siria, consiglio degli abbinamenti nella zona medio orientale o con la Giordania o con Israele, va bene tutto l'anno, forse l'inverno un po' rigido, ma sono delle perle sia la Siria che la Giordania da scoprire, ottimi viaggi di gruppo, andate con viaggi organizzati, soprattutto con guida. Parigi. Parigi, meravigliosa per coppie, ma meravigliosa anche per i bambini perché è chiaro c'è Euro Disney, quindi è un prodotto. Devi dire il periodo. Periodo, periodo. Parigi eviterei lo stesso, i mesi troppo invernali, gennaio, febbraio, ma sempre, tutto l'anno va benissimo, molto cara in primavera. Alessandria ed Egitto. Alessandria ed Egitto, come direbbe tutto, ma che è Alessandria ed Egitto? Alessandria ed Egitto è una destinazione che io non farei. Io andrei in Egitto, ma evitando Alessandria, andrei al Cairo e poi mi imbarcherei su una fantastica crociera sul Nilo, su un battello classico, chiaramente sempre 5 stelle perché bisogna scegliere sempre il meglio in Egitto, oppure in Feluca, che sono queste barche un po' più piccole, massimo 12 cabine, gruppi di amici, una vacanza indimenticabile. Va bene sempre, ma ricordo, l'alta stagione in Egitto non coincide con la nostra, perché è nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre. Bene, avrei voluto anche chiederti Toronto, Rio de Janeiro, Sydney, Yeltsin, Amsterdam, ma non abbiamo tempo. Io ringrazio Gaetano Seah per essere stato il nostro ospite e per chi invece non avesse la possibilità di viaggiare, come direbbe Jean Baudrillard, il viaggio è nella testa. Grazie per la visione!